La protesta dei trattori che sta toccando le varie città della regione, l'ultima in ordine di tempo, Padova, con oltre 600 trattori e più di 1000 persone, arrivata allo stadio Uganeo, anima la discussione politica. Il Partito Democratico Veneto accusa il governo di Giorgia Meloni di aver disatteso le promesse. Penso proprio che sia un problema per il governo, perché questo governo ha fatto molte promesse, soprattutto quando era all'opposizione in passato, anche su questa questione dell'agricoltura e adesso non riesce a mantenerle. Quando per molto tempo fai delle promesse e poi ti trovi al governo, magari quelli che hai i blanditi poi si rivolgono a te. Il caso, guardate, dell'IRPEF. Diciamo che era stato il governo di centrosinistra ad abolirla, il governo di destra l'ha rimessa e intorno a questo c'è stata una grande protesta, che peraltro non è ancora finita. Naturalmente i problemi dell'agricoltura sono molti, l'agricoltura è fondamentale per la nostra economia, anche nella nostra regione, i costi sono aumentati, i cambiamenti climatici, la siccità e l'aumento delle materie prime sono tutte questioni che hanno inciso e quindi noi dovremmo lavorare a livello nazionale e a livello Veneto per fare in modo che questo settore venga sostenuto al meglio, anche a livello europeo, con delle politiche che non mettano in discussione la transizione ambientale, ma anche che sostengano chi lavora, chi opera, chi ogni giorno ha a che fare con la nostra terra, Grazie a tutti!